Il mio nome è Katie H. Ho 28 anni. In questi giorni ho passato la maggior parte del tempo a guardare indietro invece che avanti. A pensare a quello che abbiamo passato. Io, Tommy e Ruth. Gli studenti di Elsham sono speciali. Ognuno di voi non farà altro che vivere la vita che è stata predisposta per lui. Diventerete adulti, ma solo per poco. È giusto che sappiate chi siete e perché siete stati creati. Solo così potrete vivere una vita dignitosa. Quando ci fu rivelata la verità, tra noi cambiò tutto. Tommy e Ruth rimasero insieme per tutto il periodo della scuola. Non smisi mai di sperare che si lasciassero. Ma non avvenne. Tu pensi che soltanto tu e Tommy sareste una vera coppia? Ma il fatto è che Tommy ti considera solo una buona amica e nient'altro. Lui non la pensa come te. Se ci sono due ragazzi che si amano veramente e che sono in grado di dimostrarlo, possono chiedere di vivere qualche anno di più. Non avrei mai immaginato che le nostre vite, che un tempo erano così intrecciate, potessero distanziarsi tanto rapidamente. Forse nessuno ha compreso davvero la propria vita. Ne sente di aver vissuto abbastanza. Grazie per la visione.